Di nuovo a parlare di energia, sono 30 anni che parlo di energia, dal Wuppertal Institute col fattore 4, Weizsäcker, i fratelli Weizsäcker, Sachs, Lester Brown, li avevo conosciuti tutti nel mondo, tutti che parlavamo di energia perché è un cambio di civiltà. Allora, fatevi una domanda, un barile di petrolio costa 50 dollari, un barile di Coca-Cola costa 350 dollari, secondo voi è una cosa normale, secondo voi è un'economia razionale, intelligente, di buon senso? Che cosa c'è sotto? Cosa c'è sotto che vogliono ancora ripristinarci il petrolio, il gas, il carbone, ancora il carbone perché i costi sono inferiori. Quando andiamo verso delle tecnologie raffinate, le stampanti 3D che metteranno assolutamente in crisi la vecchia e utopica, ormai industria pesante, abbiamo ormai il concetto di energia, il concetto di energia ne parlavo 25 anni fa, dicevo che le case anche quando le spegni consumano energia, siamo scemi, facciamo centrali nucleari per mantenere accese delle cose spente, i led dei nostri registratori, video, televisori, le nostre spie nelle case, tutto acceso, noi abbiamo una centrale nucleare in Europa che serve a dare energie alle nostre utenze spente, avremo nel futuro delle fibre ottiche che collegheranno i nostri elettrodomestici, tutte le nostre utente collegate col wifi, quindi avremo riscaldamento, avremo raffreddamento, avremo la lavanderia, avremo tutte le cose, le utenze di casa collegate, quindi toglieremo i picchi, i picchi, l'energia, la potenza impegnata, la potenza impegnata, paghiamo energia che non consumiamo, siamo veramente al paleolitico ancora, fare una casa oggi, fare una casa la fai in maniera che fa energia, non la consuma, non hai bisogno di fare centrali a carbone, centrali a turbogas, importare gas, fare gasdotti che arrivano dal Turkmenistan, arrivano sotto, passano sotto gli ulivi millenari nella Puglia, il paradiso terrestre mondiale per arrivare a Brindisi e poi danno il gas in Austria, ma stiamo scherzando, questi sono fossili che reagirano come fossili, allora l'energia è un cambio di civiltà, l'energia è un cambio di pensare il mondo, fra 25 anni il lavoro quale sarà? Le scuole sono in grado, l'istruzione è in grado di capire che cosa sarà un lavoro tra 25 anni, molti esperti dicono che il maggior parte dei lavori, il 50% dei lavori conosciuti spariranno, ne arriveranno degli altri, la robotica, l'intelligenza artificiale, è il big data, tutte queste cose Google, adesso la prima azienda mondiale è Alphabet che è la finanziaria di Google, compra oggetti offline per collegarli in rete e noi di che cosa parliamo? Noi dobbiamo parlare con questi quesiti, dire se siete d'accordo, se dobbiamo passare all'elettrificazione, dal petrolio all'elettrificazione in 30 anni, un piano trentennale, quarantennale dell'energia, non possiamo avere una prospettiva di 5 giorni in base alla borsa di Asena che dà il senso e il costo del gas o in base a un'altra borsa che determina cosa è più inconveniente, il carbone o il metano, noi dobbiamo fare un piano e dire il nostro fine è là, il nostro fine è che tipo di vita vogliamo, per favore, questi sono tutti mezzi, allora noi abbiamo nel nostro programma, l'avete sempre visto, come punti di riferimento le rinnovabili, gradatamente passiamo alle rinnovabili, le produciamo noi, il paese del sole, io per uno dei primi sono stato ad avere un impianto di fotovoltaico qua che mi facevo 5-6 kilowatt e dovevo recuperarli e stoccarli in batterie, oggi c'è l'elettrico, la mobilità elettrica, Tesla, il signor Musk ha fatto nei primi 3 mesi della sua attività, ha fatto più guadagni di tutto l'anno dei petrolieri, la Rockefeller Foundation non investe più un centesimo nel petrolio, ci dobbiamo investire noi con questi cazzoni che sono al governo, ma vi sembra normale? Allora se Tesla fa questa elettrifica dove poi c'è già un esperimento, guarda che c'è già, non un esperimento, già fatto, in Danimarca la Nissan sta facendo con società anche italiane questo trasferimento di mentalità dell'automobile che può diventare un accumulatore, tu accumuli in batteria nella tua auto elettrica la corrente di notte che costa meno e te la regalano, anche in Svizzera ti pagano per esempio, l'accumuli di notte e poi se non la usi la rimetti in rete e te la pagano di giorno al triplo e la differenza di prezzo ti paghi il leasing della macchina, quindi la macchina intesa non solo per muoverti ma come accumulatore di energia che è uno dei più grandi problemi che abbiamo, no? Allora pensare in avanti a 50, 100 anni, bisogna cominciare adesso e dire entro il 2025 faremo questo, la transizione dal fossile e come lo fai questa transizione dal fossile alle rinnovabili, con l'unica politica, con la politica che è il sistema fiscale, è l'unica cosa, la politica è il tuo sistema fiscale, detassi il lavoro e tassi che consuma energia e materie prime, la nostra filosofia dovrebbe essere 2-20-20, 2-20-20, 2 passare a un consumo medio di energia che è 6 kilowatt la media europea, passare da 6 a 2, con l'efficienza e con le tecnologie ci lavorano i più grandi politecnici d'Europa, da 6 kilowatt a 2 kilowatt, poi da 40 tonnellate pro capita di materiale che consumiamo a 20 tonnellate e da 40 ore di lavoro a 20 ore di lavoro, questi tre pensieri sono tre pensieri per effettuare il cambiamento del mondo, ma sono, ripeto, mezzi per arrivare a un tipo di società che io spero e spero e vorrei condividerla con voi, che sia una società dove il lavoro pesante lo fa la macchina, dove io ho più tempo libero e liberato dal lavoro, liberato dal lavoro, dove i lavori le fanno le macchine, l'automa, i robot, dove io posso dedicare tempo alla mia famiglia, a leggermi un libro, agli amici, alla mia vita e voglio mettere la vita delle persone al centro e per fare questo bisogna fare un cambio di pensiero, di energia, l'energia non è solo cambiare dal gas o dal metano, arrivare all'idroelettrico o al fotovoltaico o all'erolico, è un cambio di civiltà, io dicevo una battuta, ve la ripeto perché mi sembra, non bisogna aspettare che finisca il petrolio e la battuta era l'età della pietra non è finita perché erano finite le pietre, si va avanti, si va avanti solo mollando questi fossili che oggi ci vogliono riportare indietro nel tempo, rispondiamo noi adesso come blog e come movimento condividiamo le nostre scelte, abbiamo messo un po' di domande, dovete votarle, è chiaro ci sono delle domande, dovete dare il vostro parere, il vostro giudizio, però il senso del movimento è anche questo, vedere il mondo in un altro modo, vi abbraccio, vi ringrazio e ci vedremo poi in giro a piede libero.